Ehi, sappi quello che fai, eh? No, sentaci! Hai firmato il senso della donazione di occhi, amico? Te la fata, però, eh! Dai, vai! Oh, basta, la tua tentativa è andata! Applauso di incoraggiamento! Guardate, inglesi, cosa non dovete fare! Questo è il problema! Guardate, vieni a provare! Poi, abbiamo fatto un certo? Guardate, aqui... Guardate... Guardate! Guardate, guardate! Quanti inglesi bambini dobbiamo? Due? Ora ti parla come si scrive a racconto. Non come si stampante. Is King still with us? Si. Vai su! Vida di là! Vai! Vai su! Vai su! Vai su! Si, penso che il mio calcio sarebbe il problema qui. Sei qui. Si. È un po' di questo! È un po' di questo. È un po' di questo. È un po' di questo. È un po' di questo perché il carbo è apertato. È un po' di questo! si, non è stato un po' di più oh, no, no si, ma ti metti i piedi sono 20 hai scoperto 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 per favore sapevo le ho scoperto hai scoperto hai scoperto quindi sì, non è stato un problema che aveva bisogno in ogni momento, non è stato un problema in ogni momento, non è stato un problema ah, non è stato un problema perché è stato un problema ha rompito tutto ha rompito il carro non è mai rompito non è finito non è stato un problema fino adesso è tutto ok, ma non lo sapevamo è stato un problema è tratato di rompire il carro è stato più attento voglio fare un po' ma devo andare a casa non penso sia una buona idea pensavo solo un bel e un bel e un bel chiede Jack non so se il tuo carro non è abbastanza alto non è abbastanza alto ha detto prima che gli inglesi non lo sappiamo non lo sappiamo Siamo tornati in Pugnano o stiamo qui per un tempo? Stai in un'estima in un'estima, in un'estima, e poi ho provato un'estima. E poi ho avuto un'estima. Però, sì, spettacolo, lavoriamo il modo da tornare. Quanto tempo? Abbiamo fatto un po' in due giorni, ma è un tempo molto lungo. per quanto riguarda il tempo? 12-13 ore di driving per il tuo channel? o con il ferry? con il donkert e il ferry? il ferry è più di 35 un po' più meglio ma più lungo ma non è più di 2 ore dai ormai sei lì ecco adesso Spingi, forza Vai un colpetto, diciamo che è stato l'incidente Giù, giù dritto Bravi Grazie